Respiro corto, affaticamento, debolezza e dolore muscolare, vertigini, scarsa tolleranza anche a sforzi minimi, depressione e ansia. Sono questi alcuni dei sintomi riconducibili a una sindrome da decondizionamento che colpisce i pazienti guariti da coronavirus e che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Alcuni di questi disturbi possono riguardare anche coloro che pur non essendo stati ospedalizzati sono stati costretti a quarantena, specialmente se anziani e con una mobilità ristretta. Condizioni per cui un gruppo di medici e fisioterapisti della clinica di neuro-riabilitazione dell'azienda ospedale Reuniti di Ancona ha sviluppato un programma di educazione terapeutica dedicato alle persone in convalescenza dopo infezione da covid-19. Il programma è accessibile collegandosi gratuitamente a una piattaforma web tramite smartphone, tablet e laptop e offre una selezione di 28 filmati che mostrano altrettanti esercizi per i muscoli respiratori degli arti superiori e inferiori. Una guida audio fornisce istruzioni specifiche su come eseguire i movimenti corretti, ma poco ancora si sa sul persistere dei sintomi. Per il momento non abbiamo ancora informazioni particolarmente dettagliate o affidabili su che cosa significa guarire da un'infezione da covid. In tutto il mondo si sono attivati molti gruppi di ricercatori che stanno iniziando ad osservare l'evoluzione dell'infezione nelle prime settimane, ma potremmo dire anche nei primi mesi dopo la dimissione.